E che te pai potestu del FUS? Ragazzi, siete mai stati a Delphi? Sei pronto a tornare indietro nel tempo? Preparati a un viaggio epico a Delphi, l'ombelico del mondo. Qui, tra le rovine maestose e tesori nascosti, potrai rivivere l'emozione di consultare l'oracolo di Apollo. Ma attenzione, le sue profezie potrebbero riservarti sorprese inaspettate. Scopri i segreti di questo luogo leggendario e preparati ad essere sbalordito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.